Per quanto riguarda Renzi, io sono una renziana ormai dal 2012, quando ci sono state purtroppo i referendum che Renzi avrebbe dovuto lasciare, qualcuno mi ha anche detto ormai nel PD si è rimasta tu e Renzi, oggi siamo io Renzi e una comunità straordinaria di persone, di gente, veramente tanta che ti fanno vibrare e ti fanno cambiare, è per lo smucio, qualcosa di endorfine, qualcosa che è veramente straordinario, Renzi ha idee, ha le tematiche giuste, cambia perché lui è una persona che cambia, se gli viene un'idea che è migliore, che è geniale rispetto a quella che ha avuto precedentemente, lui non ha nessuna difficoltà a dire accantoniamo questa cosa per poterne fare un'altra.